I lavori per la loro realizzazione sono terminati nel 2005, a ricordarcelo anche la data stampata al di sotto dello stemma del comune, ma come nella più classica delle storie italiane non sono mai stati inaugurati ed utilizzati ufficialmente. Stiamo parlando dei pontili realizzati nelle acque del porto di Molfetta, lungo la banchina San Domenico e che, nelle intenzioni dei progettisti, avrebbero dovuto essere utilizzati per l'approdo delle piccole barchette da pesca o dei natanti da diporto. Nulla di tutto ciò, invece, è mai accaduto. Le strutture, costate alcune decine di migliaia di euro, pur realizzate secondo moderni criteri e dotate di servizi come gli attacchi per l'acqua potabile e l'elettricità, non sono mai state aperte. Nonostante ciò, numerose barche hanno approfittato per trovare un comodo approdo e i pescatori li utilizzano regolarmente per passare alcune ore in compagnia delle loro barche da pesca. Il mancato utilizzo e soprattutto la mancata manutenzione ha segnato questi anni. Danni in più parti della struttura e addirittura una delle rampe di accesso staccatasi e affondata nelle acque del porto. Davanti ad un occhio profano, segnali che indicano l'impossibilità di salvare, almeno in parte, quanto realizzato appena quattro anni fa. In barba, al rigore economico e alla tanto sannata, attenzione per la cosa pubblica.